Il convegno di oggi verte su un tema importantissimo che è quello del calo demografico. Non è l'offerta di lavoro che manca, ma è probabilmente una prospettiva di felicità che l'Italia non riesce più a dare. Noi in Monza e Brianza abbiamo ritenuto di seguire a un certo punto delle iniziative pubbliche, gli AFOL sono centri per il lavoro, ma assolutamente informatizzati, assolutamente innovativi. L'inverno demografico c'è, è un problema strutturale e quindi dobbiamo correre oggi ai ripari. Abbiamo coinvolto circa 500 ragazze degli istituti superiori in 40 dei nostri laboratori, nostre imprese e abbiamo visto l'interesse che ha manifestato. Se non c'è sinergia tra aziende e scuole, è difficile che riusciamo a superare questo impasto. Fare l'elettricista, fare l'idraulico, fare il tapezziere, fare il faregnano, dico che sono arti e non mestieri. Abbiamo bisogno di mantenere sui nostri territori i nostri grandi talenti e sicuramente tutti insieme riusciremo a farlo. Grazie. Grazie. Grazie.